E' ovvio che lavorare in certi ambienti è molto molto bello Perché oltretutto queste persone non solo sono importanti e famose Ma sono persone veramente straordinarie E' bello incontrarle, è bello stare con loro E' bello capire proprio cosa hanno da imparare a noi persone Io quando incontro Ugo Nespolo trovo sempre molta cordialità, gentilezza, educazione Così come trovo con il vicequestore, con Gisella Bene Insomma con tutte le persone con cui ho... Mi è anche capitato di essere il dog sitter di un pesciolino rosso Questo è uno scoop su Sele City Perché mi chiamò anni fa una signora, una novantunenne E mi chiese se avevo possibilità di guardare un animale Io subito capì che insomma si trattava di un cane Poi lei mi disse, no guardi che io non ho nessun cane E io dice, ma parliamo di un gatto La signora dice, no no è il mio pesciolino Pensavo a uno scherzo Poi in realtà andando a casa di questa signora Incontrai davvero questo pesciolino nella sua boccia E la signora era molto preoccupata perché non era molto di gente Quindi mi disse, ma cosa mi costa poi trattenere il mio pesce nella sua abitazione Mi disse, guardi facciamo un baratto Magari quando le torno mi preparo un bel piatto di orecchiette Visto che lei è pugliese E così insomma, i vini in carico Senti Paolo, ma spesso erroneamente si pensa che tutti possono fare il duck sitter Sì Ah, e invece che tipo di professione è? Viene riconosciuta in Italia, come funziona? No, in Italia assolutamente no In Italia addirittura qualcuno per la strada mi ferma chiedendomi Se io sono il baby doll del cane o il babysitter del cane Il babysitter ovviamente si occupa di bambini E io mi occupo di cani Non esiste a livello, diciamo così, di istituzione Non siamo riconosciuti da nessuno Però è anche vero che adesso sono un po' per Perché io ho sollecitato questo problema Ad esempio anche a livello comunale Mi ero rivolto all'assessore La Volta Proponendo di formare, di creare dei corsi per duck sitter In modo che il pubblico potesse accedere a del personale con un minimo di qualifica E quindi lui ha accolto molto bene questa cosa Ci ha proposto anche delle cose interessanti Quindi ci ha affiancato l'unità cinofila della questura L'unità cinofila dei vigili urbani Abbiamo chiesto il patrocinio del comune di Torino Il corpo dei medici veterinari e dei commercialisti Quindi è nato su un bel corso Abbiamo strutturato questo corso insieme a dei medici veterinari Ovviamente ognuno di noi ha fatto la sua parte E io dalla mia ho aiutato i miei colleghi e i miei futuri colleghi A gestire meglio il loro lavoro E quindi essere un duck sitter non si ferma alla passeggiata Quelli sono definiti dog walker Come nei paesi anglofani sono coloro che portano a passeggio il cane Il duck sitter deve avere un occhio attento Deve essere in grado di riconoscere quando il cane può incontrare una patologia Senza ovviamente tracciare diagnosi perché non ci compete Non avendo una laurea in medicina Però possiamo capire che insomma il cane non sta bene Da alcuni accorgimenti Con il nasino caldo può segnalare ad esempio uno stato influenzale Un comportamento insolito può stare a significare Che ci può essere un rapporto magari un po' compromesso a livello sociale Quindi segnaleremo queste cose al proprietario Che poi a sua volta magari si riferisce al medico E il medico da lì indirezzerà poi la cura Quindi l'occhio del duck sitter deve essere molto attento Poi la responsabilità infinita proprio perché loro sono imprevedibili Sono animali quindi può capitare che litighino Può capitare che si spaventino Magari perché il ragazzino di turno butta un petardo Quindi all'improvviso il cane si dà la fuga Quindi bisogna avere una buona presa Insomma vigilare bene Essere dei vigilanti con i cani Non bisogna mai perdere l'attenzione E non dare mai nulla per scontato Senti però indubbiamente ci vogliono delle doti innate Magari tu ti trovi a avere a che fare con 4, 5, 6 cani alla volta Che magari non sanno I loro padroni non sanno neanche farli comportare con un altro cane Tu come fai? C'è una sorta di vocazione come in tutte le cose C'è chi diventa un bravo giornalista e chi magari non lo diventa O chi magari diventa un buon avvocato Altri invece restano nell'ombra Credo che il segreto sia nella passione nel proprio lavoro Quando si incontra la passione e si intuisce che quello che cercavi l'hai incontrato Lì bisogna proprio stimolare questo interesse Molto spesso mi capita che qualche comportamentalista mi raggiunga nella cani E mi venga a chiedere ma lei come è fatta a trattenere tutti questi cani In realtà la natura non andrebbe sfidata Perché Sultan, il signorino qui insomma Dopo 8 anni lui puntualmente usciva con tantissimi cani Poi molto probabilmente preso dalla gelosia una mattina si girò male verso uno di loro Io a quel punto capì che insomma c'era qualcosa che non andava fra me e Sulta Molto probabilmente io l'avevo un po' trascurato Quindi cercai di recuperare un rapporto con lui E non appena vedevo che lui aveva una forma di aggressività verso gli altri intervenivo io E quindi mi ponevo un po' come capobranco Come io non ho bisogno di essere difeso da te, sono io che comando Ma per fare questo non c'è bisogno di prendere il bastone come un'immagine e picchiare i cani Serve modulare il timbro di voce Serve imporsi in alcune posture Perché i cani mandano molti segnali Ad esempio un cane non attacca mai all'improvviso Un cane prima di mordere manda proprio dei segnali Le orecchie all'indietro, alzano il labbro, mostrano i denti Quindi mandano dei messaggi Se il dog sitter è in grado di riconoscere questi messaggi che il cane manda Può tranquillamente intervenire ed evitare che scoppi una rissa A me è capitato di una collega ad esempio all'interno dell'area cani Che aveva un bimbo di tre anni che scorazzava su e giù per il prato Con sei cani all'interno Io rimasi scioccato Gli animali hanno un istinto predatorio Loro sono lupoidi Se uno di questi cani parte È ad attaccare il tuo bimbo Non perché voglia amare al tuo bambino Ma il tuo bambino rappresenta una preda che scappa Cioè in natura sarebbe la lepra che si dà la fuga E quindi potrebbero attaccarlo e sbrannartelo in cinque minuti Ecco bisogna fare molta attenzione a queste cose Perché poi il rischio qual è? Che il cane venga visto come il cane mostro, il cane killer In realtà la responsabilità è dell'essere umano Cioè della persona che dovrebbe comprendere Che l'alletogramma del cane è completamente diversa dalla nostra Quindi andare a risvegliare degli istinti predatori nel cane Significa anche poi mettere a rischio l'incolumità Di chi si trova magari all'interno Come in questo caso di un bambino Quindi ecco perché è importante formare i dog sitter Proprio perché i dog sitter devono avere un occhio più attento E aiutare alla scelta del cane anche il proprietario Eventualmente Ad esempio si potrebbero fare delle preadozioni Questo sarebbe molto importante Perché molto spesso si prende il cane Pensando che sia un soprammobile da spolverare Il cane è un essere vivente Con una sensibilità Con una psicologia Quindi bisogna fare tutto ciò che non stimola nel cane Delle cose negative Non bisogna mai rinforzare stimoli negativi Ma rinforzare quelli positivi Quindi quando il cane risponde al mio comando Lo premierò Quando il cane mi disobbedisce A quel punto io farò capire che sono arrabbiato E quindi la carezza non gliela faccio Ecco C'è tutta una serie di cose che bisognerebbe sapere Oggi esistono tantissimi libri Che danno la possibilità di documentarsi Ci sono educatori cinofili Comportamentalisti C'è la possibilità di potersi aiutare Anche leggendo dei buoni libri A giudicare dal grande sonno che stanno facendo Lady e Sultan Direi che sono Loro in questo momento hanno capito Che siamo in una situazione Insomma di Tranquilità Sono con il loro padrone Vedo che comunque sono molto molto contenti Di essere qui anche loro Senti facciamo una piccola pausa Perché In collegamento telefonico Abbiamo Giovanni Pallotti Che è il presidente dell'EMPA Torino Pallotti hai il telefono? Sì Buongiorno Benvenuto alla nostra trasmissione Anche da parte del nostro ospite Paolo Loggero Sì buonasera Senta Qual è la situazione Voi siete dell'EMPA Che è il presidente nazionale di protezione animali Qual è la situazione di Torino? La situazione di Torino è Abbastanza buona Anche se noi continuiamo a dire Su alcuni periodi dell'anno Siamo abbastanza accorti A dare dei messaggi Per quanto riguarda Sia d'estate Sia anche in questo periodo Che si regalano molto facilmente gli animali Ecco questo Noi siamo contrari A regalarli Solo per un capriccio Ecco perché io dico Che prima di regalare O comprare O portarsi in casa Un animale Per i figli O per se stessi Consiglio sempre di andare a fare Del volontariato In un canile Per vedere effettivamente Se è una convinzione Verra e propria O è solo una cosa passeggera Anche perché il cane non è un oggetto E sviluppo il cane per sempre Per sempre Non è un perugio E spesso poi finiscono Magari a Ferragosto Abbandonati Esatto Esatto Come il nostro auguri di Natale Che abbiamo fatto A tutti i cittadini Della città di Torino E provincia È quello di stare molto attenti Quando si fanno queste cose Per gli animali E non regalare solo Esclusivamente perché il bambino lo vuole E poi attenzione Perché c'è un mercato Fiorente Ahimè purtroppo Dall'est Di cuccioli spesso malati Perché sono tratti Alla mamma Troppo piccoli E si diffonde sempre di più Vero questo triste mercato E purtroppo sì Purtroppo sì E teniamo presente Che poi tutti questi animali Che vengono strappati presto Alle cure della mamma Non sviluppano A sufficiente Gli anticorpi E perciò avranno sempre Dei problemi Sia comportamentali Sia di salute questi animali Perché non vengono Sì soprattutto anche comportamentali Esatto esatto Quindi fidiamo di cuccioli Che costano troppo poco Nel caso non andassimo A cercarli di proposito Esatto Ma io prima di andare in un negozio Consiglio sempre di andare nei canili Che ci sono tantissimi cani Che poi sceglieranno Il loro futuro padrone Eccoci E poi se no Allora se per caso Uno vuole determinate razze Per lei infatti Sono tutti gli animali Sono tutti Sono tutti belli lo stesso Però se uno vuole proprio Allora rivolgersi A dei allevatori Italiani Che sa dove Come vengono allevati Come vengono cresciuti Eccoci E gli allevatori italiani Almeno se non altro Non vengono Non li sottraggono Prima dei 60 giorni Prima del tempo dovuto Alle cure della mamma Certo Un'ultima cosa Quando si è indecisi Se adottare un menù Un cane C'è anche una possibilità di mezzo Che è quella Dell'adozione a distanza Che non è da sottoportare Esatto Magari adesso Se uno è indeciso Di portarsi a casa Un animale Può fare un'adozione A distanza E poi Andare Quando ha tempo A portare a passeggio Quest'animale Che ha deciso Di fare L'adozione a distanza Può farla Sia tramite internet E o se no Recarsi direttamente In canile Vedere se Io adotto questo cane Per poi portarlo in passeggiata E nel contempo Gli dà Anche un'offerta mensile Per quanto riguarda Il mantenimento Dell'animale Ok Io ringrazio Giovanni Pallotti Di presente dell'EMPA Torino Per essere stato con noi Grazie mille Ok Ringrazio lei Grazie Buona giornata Buongiorno Buongiorno Arrivederci Io ho molta stima Di questo presidente Perché è un presidente Molto molto attivo È una persona molto sensibile Con gli animali E ha sempre Delle iniziative Molto particolari Quella Ad esempio C'è stato Un corso per dog sitter Praticamente EMPA Quindi insomma Davano proprio l'abilitazione Quindi insomma La sensibilità Di questi operatori È sicuramente indiscutibile Diceva bene Bisognerebbe sempre Consigliare Di non prendere Dei cuccioli Che non abbiano Completato Il loro rapporto Con la mamma Proprio perché La mamma Ha il compito Di educare E di trasmettere Proprio dei segnali Ad esempio Il controllo del morso Quando Noi sappiamo bene Che il cucciolo Finché poppa al latte Non ha i dentini La mamma È ben contenta Di farlo poppare Non appena La cagnolina Il cagnolino Ha i dentini E comincia a mordere La mamma A sua volta Li morde Per farle capire Adesso basta Mi stai Danneggiando Quindi il tuo morso Mi causa dolore E quindi Per farti capire Cosa mi stai facendo Lo faccio anche io a te E quindi E quindi è molto importante Che il cane Venga preso Completati i suoi 60 giorni Bisognerebbe rivolgersi Se si vuole un cane di razza Degli elevatori Preferibilmente italiani Anche se è vero Che in Romania Quelli che sono legali Lavorano molto bene Ci sono dei canini Che sono ben organizzati Sono molto seri Poi è vero Che purtroppo C'è invece Questa C'è purtroppo Questo arrivo Di questi cagnolini Che vengono prelevati A 30 giorni Fanno dei viaggi Interminabili Senza acqua Senza cibo Sono malati Quindi insomma Bisogna un po' frenare Anche noi Non comprando questi cani Freniamo un po' Questo mercato illecito E evitiamo Insomma Di danneggiare Questi poveri cagnolini Ecco Paolo Roggero Sì Oggi presenta anche Il suo libro Che vediamo inquadrato Sì La zampa sul cuore Un libro di un'umanità Ricchissima Sì Per raccontare cosa? Guardi La zampa sul cuore Io sono un operatore cinofilo Mi muovo Fra la gente E gli animali Tutti i giorni Quindi la zampa sul cuore È nata Diciamo Da uno stimolo esterno Io mi sono reso Proprio conto Di quanto Tutti quanti Abbiamo un po' Messo i buoni sentimenti In soffitta E per cui Insomma Andando a frugare Nel mio solaio Ho visto che c'era lì Insomma Un po' D'amore impolverato Ho cercato un po' Di riportarlo alla luce E questo libro È un invito Ad amare Gli animali Sicuramente Perché gli animali Sono straordinari Ma non di dimenticare Che ci sono anche Tanti bambini Che soffrono in giro Per il mondo Io Ho fatto molti viaggi E in uno di questi Mi è capitato Di incontrare Dei bambini poveri E di incontrare Proprio la povertà Dal vivo Ecco Perché vederla in televisione Era trista Ma le assicuro Che vederlo Proprio dal vivo È qualcosa Che tocca dentro E allora È un po' Un invito A pensare A questi bambini Un po' E far capire Alla gente Che amare i cani Non esclude Poter amare Anche gli umani Cioè si può amare Chi ha amore da dare Ce l'ha per tutti L'amore è universale Soprattutto l'amore Non ha colore Non ha razza Non ha religione E quindi insomma Acquistando questo libro Si darà una Una mano di sostegno Ai bambini cambogiani I bambini malati Di AIDS In Etiopia Garantiremo loro Il supporto Di cure Per un anno intero Nel caso Di bimbi etiopici La CIFA È un'associazione Onlus A livello internazionale Che si occupa davvero Di questi bambini Io ho avuto modo Di incontrare Una persona Che ha fatto Un'adozione con loro E mi ha testimoniato Che è davvero vero Questi soldi arrivano Questi bambini Vengono aiutati Quindi il mio invito Non solo a leggere Questo libro E ritrovare un po' Degli episodi importanti Quali ad esempio Ho parlato di Deutanasia Di razzismo Ho parlato di abbandono Ho parlato di tantissime cose Ma la cosa che più Mi sta a cuore È che arrivi Questo messaggio D'amore In lontananza Oltre i confini Ci sono dei bambini Che soffrono Così come soffrono I cani nei canini Però vede L'altro giorno Mi sono trovato Di fronte a una signora Che mi ha detto Ma come Con tutti i cani Che ci sono nei canini Lei pensa ai bambini E lei pensa ai bambini Questo mi ha rattristato Tantissimo Perché Quei cani soffrono Dietro quelle gabbie Il cane è nato Per essere libero Cioè lui In natura vivrebbe libero Tra i campi Insomma Tra le montagne Le colline E sicuramente Non Però vede Questi cani Hanno qualcuno Che si occupa di loro Abbiamo sentito Prima il presidente Pallottoli Abbiamo i volontari Abbiamo le persone Che portano delle coperte Che portano del cibo Che fanno adozione a distanza Io trovo Che sia giustissimo Tutto questo Aiutare questi cani Io stesso ho adottato Questa cagnolina Che mi fu segnalata Dal vicequestore di Torino Dicendomi Guarda Ho letto su un articolo Che questa povera cagnolina Lì da 13 anni Tu hai una casa molto grande Perché non la adotti tu E quindi Questo messaggio d'amore Che mi è arrivato Da questa dottoressa Mi ha sollevato Mi ha sollevato davvero Mi ha fatto capire Che potevo fare qualcosa Per qualcuno Quindi Prendere questa cagnolina Era un atto d'amore Generoso verso la vita Quindi io l'ho presa Sono contentissimo Però insieme a lei Vorrei adottare tanti bambini Io non sarei sicuramente Un buon padre Per cui ho deciso Che posso avere Tanti figli distanti Senza doverli Sradicare Dalla loro terra Dalla loro Condizione familiare Quindi quello che sto chiedendo È di aiutare Questi bambini Attraverso questo libro Per dare trasparenza A questa operazione Verranno aggiornati Sul mio sito I bollettini I bollettini Dei conti correnti Descrivere il tuo libro Che è quello che aiuta Che è quello che aiuta A tirar fuori dal freezer Il nostro cuore Sì è vero Scongelarlo È vero Abbiamo un po' Un po' tutti congelato il cuore Io Un altro giorno Una signora molto molto carina Mi ha telefonato Dicendomi Il suo libro Mi ha intepidito il cuore Era pieno d'amore Pieno di Di sentimento Ecco io stesso Quando l'ho scritto Io Ci sono stati dei momenti Molto tristi Perché ad esempio Parlo di Billy Perché io Mi fu conferito Questo incarico Di portare a sopprimere Questo cane E io Descrivo quel momento Come se io fossi un boia Che portava al pativolo Il condannato a morte Fu veramente molto dura Con l'incarico E io Mentre lo scrivevo Piangevo di rotto Non riuscivo quasi a scrivere Perché mi era prevenuto Veramente un grande magone E quindi lì Mi sono reso conto Di quanto ero umano Di quanto fosse umano piangere Si dice che gli uomini Non piangono Ma chi l'ha detto Allora sono un marziano Voglio dire E quindi Piangere non è una vergogna Provare dei sentimenti Non lo è Anzi Dovremmo tutti averne E io sono convinto Che c'è tanto amore in giro Ma la gente Ha paura di esprimere Questo amore Sembravamo tutti riparati Abbiamo paura del vicino di casa Io stesso Che ho questo aspetto Nord africano Molto spesso Mi è capitato Di In alcuni appartamenti Insomma Non appena traslocato Che le persone Mi guardassero con sospetto Che non mi salutassero Addirittura E questo mi ha fatto nascere Lo stimolo Di scrivere un capitolo Sul razzismo Dove questo cane nero Dice Io sono contenta Di essere un cane Perché se fossi nera E fossi una persona Qualcuno mi inviterebbe Ad andare al mio paese Quindi E si chiamava Mira Questa e molte altre storie Si trovano nel libro Che abbiamo detto Il tempo a nostra disposizione Purtroppo è terminato Lady e Sultan L'hanno capito E iniziano a girarsi Nello studio Grazie a Paolo Rogero Grazie a lei Roberto Grazie mille Roberto Grazie ancora Grazie a Sultan E allora aria Aria pulita Sono semplici parole Nel vento che va E allora canta Perché la vita Regalare ancora Sa un po' di felicità E allora aria Aria pulita Grazie a tutti Grazie a tutti